Nuove idee intorno al project management e agli ultimi trend su carriera, innovazione e business agility. Questo è Project Management on the Go, il podcast del PMI Northern Italy Chapter. Benvenuti a tutti e bentornati per chi già ci ascolta. Sono Humman Mirmohammah Saderi, volontario del Northern Italy Chapter del PMI e fondatore del podcast Cambia Paradigma. In questa puntata parleremo di una pratica importante della metodologia agile, ovvero la retrospettiva. La retrospettiva è un momento di riflessione e valutazione in cui il team riflette sui successi e sui fallimenti del lavoro esvolto, identifica gli aspetti da migliorare e pianifica azioni per il futuro. Oggi discuteremo dell'importanza della retrospettiva, dei suoi benefici e di come condurla in modo efficace per ottenere i migliori risultati. L'ospite della puntata è Massimo Terzo, Agile Strategy Consultant e Agile Coach, alla quale chiederei prima di entrare nel vivo del tema una breve presentazione personale. Ciao Massimo e benvenuto al nostro podcast. Ciao Humman e grazie dell'invito, è un piacere per me partecipare a questo podcast. Allora, io sono come dicevi tu essenzialmente un coach, un consulente agile. Mi occupo di agile a livello sia di organizzazione sia di team di sviluppo prodotto e la mia area di specializzazione in tutto il vasto mondo, il vasto oceano agile è quella di prodotti che sono prodotti fisici sviluppati da grosse aziende, quindi quello che io chiamo Agile Engineering. Ho avuto una carriera poco lineare, diciamo. Sono lavorato dieci anni all'estero, su varie aziende e ho cominciato a fare agile in Renault, che è abbastanza strano, ma ci dimostra anche quanto le grosse aziende siano interessate ad agile. Dopo Renault io sono entrato in Italia, quindi dal 2018 sono in Italia e dal 2021 sono un consulente indipendente che collabora con il gruppo diretta impresa e mi occupo appunto di accompagnare le aziende grandi e piccole nel loro viaggio di agilizzazione. Perfetto, grazie Massimo. Allora, vorrei chiederti come la retrospettiva è entrata nelle pratiche di Agile e come si collega al principio di miglioramento continuo? Allora, Agile nasce o comunque tra le sue origini dal mondo Lean e quindi non c'è da stupirsi che ci sia qualcosa come la retrospettiva. Nell' Lean abbiamo il concetto di Kaizen e di miglioramento continuo. E la retrospettiva per sé si inserisce in questo quadro. Nel manifesto Agile del 2001, che è un po' il documento chiave per chi fa Agile, il documento che un po' sintetizza valori e principi del mondo agile, il dodicesimo principio parla proprio di retrospettiva, parla di come i team a momenti regolari si incontrano per capire come migliorare, come essere più efficaci. Cercano di adattarsi. Noi dobbiamo ricordarci che Agile vuol dire agile, sì, ma nel senso di adattabile. Quindi quando facciamo Agile lo facciamo perché il contesto è complesso e non possiamo fare delle pianificazioni a lungo termine. Siamo adattabili quindi a livello di prodotto, cercando di fare delle review di sprint ad esempio in cui guardiamo quello che è il nostro prodotto, come è stato fatto, cerchiamo un feedback dall'utilizzatore o dagli stakeholder. Ma siamo adattabili anche a livello di team. Non potendo pianificare la miglior maniera di lavorare, noi cerchiamo di adattarci e ci adattiamo con la retrospettiva. Quindi a intervalli regolari, che anche questo è importante, sono intervalli regolari, non viene fatto una volta tanto. Viene veramente in maniera regolare, in maniera cadenzata, il team si ritrova e capisce qual è la miglior maniera di lavorare assieme. Quindi se vogliamo è un'adattabilità della maniera di lavorare, dell'interazione fra le persone. Perfetto. Allora, quindi quali sono i principali obiettivi di una retrospettiva e perché è importante farla? Allora, l'obiettivo della retrospettiva è quello di rendere il team più efficace. Ricordiamoci, siamo in un ambiente complesso e il team deve far emergere la migliore maniera di lavorare. Quindi il team deve adattarsi. La retrospettiva ha un nome un po' strano, perché retrospettiva vuol dire guardare indietro. Quindi si pensa a qualcosa che è una verifica. In realtà la retrospettiva guarda indietro, ma per migliorare, cambiare lo stato futuro. Quindi la retrospettiva in realtà punta molto a come il team lavorerà piuttosto a come il team ha lavorato. Non è una semplice verifica, non è ad esempio un post-mortem di un progetto. Per questo viene fatta continuamente, però, per migliorare la maniera di lavorare del team. Una cosa importante della retrospettiva è che secondo me io la interpreto come un laboratorio, un laboratorio in cui si possono testare nuove idee. Il vantaggio dell'agilità è quello di dividere il rischio di un grande progetto in piccole iterazioni. Quindi se introdurre un'azione di miglioramento nella maniera di lavorare, in realtà mette a rischio solo una piccola iterazione, ad esempio uno sprint di due settimane, invece che un progetto di sei mesi o di un anno o di un anno e mezzo. Quindi il vantaggio di fare una retrospettiva è quello di identificare un'azione che verrà testata nell'iterazione successiva. In base al risultato, come lavoreremo noi, capiremo se è un'azione che deve essere consolidata, che deve entrare a far parte del team, o se, al contrario, non avendo avuto effetti positivi, deve essere eliminata. Però il rischio, diciamo, viene messo solamente su uno sprint, su una piccola iterazione. Ed è proprio questo aspetto sperimentale della retrospettiva che deve essere spesso enfatizzato. Perfetto. Allora, visto l'importanza di questo evento, allora vorrei chiederti qual è l'output di una retrospettiva? Allora, l'output della retrospettiva è un'azione di cambiamento. Alla fine della retrospettiva deve esserci un'azione di miglioramento. È importante anche capire che non dobbiamo avere troppe azioni di miglioramento. Qui deve esserci un focus del team e del facilitatore della retrospettiva nel capire qual è l'azione più efficace. La retrospettiva, di solito, è un evento che è soggetto a time box, ovvero viene limitato nel tempo. Quindi non potremo in un'ora e mezza, ad esempio, risolvere tutti i problemi del team. Anche qui, la lezione lì ci parla di Kaizen, di miglioramento a piccoli passi. Quello che vogliamo nella retrospettiva è identificare qual è il piccolo passo che faremo nel prossimo sprint, nella prossima interazione. Quindi è una retrospettiva che esce, che finisce senza azioni, è una retrospettiva che ha fallito, perché non ha generato l'output della retrospettiva. Ancora, non è una verifica, è una verifica al fine di avere un'azione di miglioramento. Però facciamo anche attenzione un'altra cosa. Al contrario, cioè, una retrospettiva che finisce con 10 azioni di miglioramento, anche quella retrospettiva probabilmente avrà fallito. Perché l'attività di miglioramento, l'attività di cambiamento della maniera di lavorare del team, sarà diluita su troppe azioni e probabilmente non tutte queste azioni saranno portate a termine. E quindi probabilmente il team non cambierà modo di lavorare. Bisogna fare il giusto equilibrio. Io consiglio ai team che seguo di uscire dalla retrospettiva con una, massimo due azioni. Tre, proprio è un caso eccezionale. Proprio per focalizzare l'attenzione del team su quello che è importante. Un'altra cosa, l'azione della retrospettiva viene portata avanti dal team stesso. Quindi non c'è un end-over, un passaggio di consegno a un altro team che realizza l'attività di miglioramento. Questa viene fatta dal team che già ha del lavoro da fare per sviluppare il prodotto. Quindi è importante che ci sia una piccola azione anche per dare al team la possibilità di inserirla nel lavoro da fare nelle prossime interazioni. Diciamo che in alcuni contesti magari questo evento potrebbe essere utilizzato come finalità di alineare un team, membri di team su un contesto, su un lavoro, su un progetto. Come output, che dici? Allora, direi che l'obiettivo non è allineare il team, nel senso che per allineare il team facciamo altre cose. Facciamo ad esempio degli sprint planning, facciamo degli agile inception, facciamo dei daily quotidiani, degli stand up. Dal mio punto di vista la retrospettiva non serve tanto ad allineare il team, ma può venire fuori da una retrospettiva che il team non è allineato. E allora lì si metterà in pratica un'azione di miglioramento per allineare il team. Però la retrospettiva deve essere provvista nella sua anima di momento di riflessione, momento di riflessione del team che guarda se stesso e in maniera molto trasparente capisce cosa può fare per migliorare. Una cosa importante da dire è che spesso la retrospettiva si guarda quello che è andato male, però può volere anche il contrario. Cioè il team può focalizzarsi su quello che sta facendo bene, in maniera tale da farlo meglio. Focalizzarsi non solo sulle debolezze per migliorarle, ma anche sui punti di forza per andare in maniera migliore. Perfetto. Allora a questo punto vorrei chiederti quali sono le fasi di una retrospettiva e come si prepara un team per questo evento? Allora non esiste un formato unico di retrospettiva intanto, nel senso che non è un evento che deve essere fatto in una certa maniera. Anzi, in base della mia esperienza è opportuno cambiare il format della retrospettiva. Detto questo però io trovo molto utile un modello in cinque fasi che è stato presentato da Darby e Lars nel loro libro Agile Retrospettive, in cui la retrospettiva viene dislocata diciamo in cinque fasi differenti. La prima fase è quella che loro chiamano set the stage, ovvero definire il contesto. Quando si inizia una retrospettiva si cerca di capire perché si fa la retrospettiva. Una cosa importante della retrospettiva è focalizzarla. Come dicevo la retrospettiva è un evento soggetto a time box, quindi è limitato. Non possiamo risolvere tutto. Che lenti utilizziamo per guardare il nostro team? Che prospettiva ci mettiamo? Sotto che prospettiva ci mettiamo per capire dove migliorare? Quindi è importante un po' definire, inquadrare il contesto. E questa qua è la parte di set the stage. È la parte anche in cui si cerca di coinvolgere le persone. Di solito in questa fase io chiedo ad esempio di dire ai membri dei team con varie tecniche come si sentono. È tutto chiaro? Sono confusi? È andata bene la retrospettiva, l'interazione precedente o è andata male? Questo per dare anche la possibilità a tutti di parlare perché di solito quando una persona parla all'inizio di una riunione è facile che questa persona sia attiva, abbia un ruolo attivo durante la riunione. E noi vogliamo che la retrospettiva sia un momento di discussione, un momento di creatività, di discussione, di identificazione di nuove idee, di nuove proposte. La seconda fase è quella che si chiamano gather data, ovvero sia fare quella che si chiama una grande foto di famiglia in cui si capisce cosa è successo l'interazione precedente. Agile, tutta l'agilità si basa sull'empirismo, quindi noi non facciamo ipotesi, noi guardiamo cosa sta succedendo in questo momento, come si trova il team in questo momento. Appunto la foto di famiglia. Cerchiamo di capire con i dati che possiamo avere ad esempio per un team agile potrebbe essere la velocità o il numero di bug che sono emersi, la copertura di test del codice. Insomma, quali sono gli elementi fattuali che abbiamo per valutare l'interazione che si è appena conclusa? E da qui aggiungiamo anche qualcosa di più soft, come ad esempio qual è il morale del team? Come si sentono gli sviluppatori di PO? Hanno un senso, uno scopo in quello che stanno facendo o si rendono conto che qualcosa manca? Quindi cerchiamo di fare un completo, una completa foto di quella che è l'interazione precedente, lo stato del team, mostrando non solo appunto, come dicevo prima, le parti negative, ma anche gli aspetti positivi, al fine di preparare una base fattuale per poi passare alla seconda fase, che è quella che si chiama Get Insight, ovvero cominciare a capire cosa è successo nell'interazione precedente, capire quali sono le cause e la radice dei problemi del team. Anche qui la lezione lì è fondamentale, qui parliamo ad esempio di diagramma di Chicago, di metodo dei 5 perché, analizziamo i problemi del team o i punti di forza del team al fine di capire cosa è successo. Due cose importanti, la prima è che questa parte qui non va saltata, spesso noi ci accontentiamo di raccogliere i dati e di partire a fare delle azioni e questo è sbagliato, perché spesso magari c'è il rischio di lavorare piuttosto sulle parti emersi, sulla punta dell'iceberg piuttosto che su quello che c'è sotto, toccare diciamo i sintomi e non le vere cause dei problemi del team ad esempio. Per far questo è opportuno focalizzare il lavoro del team, quindi una volta che abbiamo fatto la nostra foto nella fase 2, scegliamo quali sono gli elementi sui quali vogliamo lavorare. Io di solito uso un dot voting, semplicemente una volta emerse tutte le problematiche di cui si vuole parlare, chiedo ai membri del team di votare quelle che per loro sono le più importanti e ci concentriamo su una o due problematiche, uno o due elementi. Una volta di questo elemento, questi due elementi, abbiamo fatto un'analisi dei 5 perché ad esempio, o comunque abbiamo capito le ragioni per le quali il team si comporta in una certa maniera, o è successo un certo problema, o il team sta lavorando bene in un certo aspetto, allora è il momento di decidere che azioni fare. Le azioni che escono da una retrospettiva devono essere degli esperimenti. Bisogna pensare che vogliamo cambiare la maniera di lavorare del team, anche prendendoci dei rischi. Ancora il rischio è legato a un periodo molto limitato, quindi è opportuno capire cosa possiamo fare per migliorare, per andare meglio, per cambiare la maniera in cui i membri del team lavorano fra loro. E infine, una parte importantissima, la chiusura della retrospettiva. Bisogna fare una retrospettiva in qualche maniera della retrospettiva. Io consiglio sempre in questa fase di chiudere riassumendo le azioni, definendo il piano d'azione, esplicitandolo, chiedendo chi fa cosa, ad esempio, e facendo una retrospettiva della retrospettiva. Semplicemente chiedo come è andata l'ora, l'ora e mezza, le due ore che abbiamo passato insieme. Questo per fare anche miglioramento continuo nella maniera in cui facciamo retrospettiva. Una cosa che può essere molto utile durante la retrospettiva è portare delle attività ludiche, magari dei giochi, delle attività più simpatiche. Non è necessario, ma potrebbe aiutare ad esempio a creare un ambiente con maggior sicurezza psicologica, piuttosto che avere più entusiasmo, più energia. Ancora, non è necessario, ma queste attività potrebbero aiutare. Giusto. Allora, prima dicevi che si può fare questo evento, si può organizzare in diverse modalità, ok? Però come bisogna scegliere il formato giusto di retrospettiva per una determinata situazione o progetto? Tipo, tu cosa fai per fissare la modalità della gestione di questo evento? Allora, la cosa importante è conoscere il team e conoscere il motivo per il quale si vuole fare una retrospettiva. Abbiamo detto che la retrospettiva è focalizzata a qualcosa. Allora, se io sto seguendo un team che ha problemi di qualità, cercherò un format che è più adatto a questo tipo di investigazione. Se ad esempio voglio fare una retrospettiva di lungo periodo, userò formati che mi permettono di fare ad esempio una timeline di quello che è successo. Quindi, in realtà, ci sono molte tecniche, molti formati che si possono utilizzare. Quello che suggerisco io è come base partire dal metodo che vi ho descritto prima, quello delle cinque fasi, perché è un metodo robusto e strutturato e aiuta il team a concentrare le loro azioni. Poi ci sono moltissime altre maniere, ad esempio potrebbe esserci un metodo, il metodo pubblicizzato da Spotify, creato Spotify in realtà, sul team health check. Un metodo molto interessante che non bisogna abusare, ma è un'altra maniera per far parlare le persone. Piuttosto ci possono essere dei workshop. Io posso chiedere al team di fare un workshop per discutere di qualcosa. Una cosa che di solito presento soprattutto agli scrum master giovani, ai coach già ai giovani, è quello di evitare l'eccessiva ludicità. Spesso tendiamo a fare delle attività molto divertenti e molto simpatiche. Dobbiamo chiederci sempre qual è il senso di queste attività. Ogni attività deve contribuire a costruire la nostra azione di miglioramento. Quindi bisogna evitare di fare delle attività anche simpatiche, ma che per sé non portano contributo a quello che è l'obiettivo finale della retrospettiva. Un esempio che posso portarti è quello di un team su cui lavoravo per un'app, per un'azienda che è del mondo automotive e questa app doveva aiutare le persone che lavoravano sul controllo qualità. Lì abbiamo impostato, ho impostato una retrospettiva sul concetto di qualità in fabbrica. Quindi utilizzando delle terminologie e degli strumenti tipici dell'IN al fine di creare per lo stesso team un ambiente in cui potesse riconoscere il senso dell'app che sta sviluppando. Quindi abbiamo parlato di Baccarouge per identificare quei, quelli che erano i problemi. Abbiamo parlato di metodi tipici dell'IN come Ishikawa per identificare quelli che erano le cause della radice. E questo è stato molto interessante perché ha messo il team quasi nel contesto per il quale stava lavorando. Perfetto. Allora considerando che il team è la parte principale di questo evento, secondo te la maturità del team può influenzare sulla loro capacità di individuare e soprattutto attuare i miglioramenti e immersi durante la retrospettiva? Assolutamente sì. Noi come Agile Coach, come Scrum Master, come facilitatori di una retrospettiva dobbiamo sempre considerare il contesto, ma anche la maturità che ha il team. Io quando mi trovo di fronte a un team che inizia il suo percorso in Scrum ad esempio in Agile, faccio delle retrospettive molto semplici. Non voglio distrarli in qualche maniera da quello che è l'obiettivo della retrospettiva. Chiedo semplicemente che arrivino alla fine con un'azione di miglioramento. Quindi il formato che utilizzerò sarà molto semplice, utilizzerò delle attività che sono veramente concentrate e che permettono al team di in qualche maniera diventare, di abituarsi al concetto di retrospettiva, che non è una cosa da poco perché stiamo chiedendo al team di veramente prendere in mano il suo destino. Perfetto. Di soltanto nella retrospettiva non ci sono i manager. Invece per un team più maturo, con questi team mi è capitato di fare delle attività più complesse, attività ad esempio in cui chiedo di fare dei lavori di gruppo, in cui chiedo delle azioni completamente contro la mentalità corrente dell'azienda. Quindi cerco di spingerli insomma un po' oltre a quello che è la loro area di comfort al fine di trovare qualcosa di più interessante per il team. Quindi il contesto è importante ma anche la maturità del team è importante. E questo un po' ci dà anche il peso dell'importanza di uno Scrum Master, di un Agile Coach nel team perché può capire cosa sta succedendo in un team, quali sono le dinamiche. Può capire ad esempio se un team è in periodo di conflitto e loro magari deve cercare delle attività che portino il gruppo assieme. Diciamo che è molto importante comunque capire i team in quale fase della sua maturità si trova secondo le fasi di Druckmann. Sì esatto, il modello di Druckmann è molto interessante. Molto interessante di capire a seconda della fase che c'è poi si può impostare questo evento. Allora quali sono le tecniche o gli strumenti che si possono utilizzare per gestire questo evento in modo efficace? Per esperienza credo che la retrospettiva debba essere un evento molto visuale. Bisogna usare strumenti di visual management sia i tradizionali post-it, le lavagne, sia strumenti virtuali come le board Miro, Mural e via dicendo. Questo a seconda del tipo di team con cui stiamo lavorando. Se abbiamo un team distribuito fra Italia, Francia e India ovviamente utilizzeremo uno strumento virtuale. Se abbiamo tutto il team assieme ma forse ha senso lavorare piuttosto con carta e penna. Quello che secondo me è molto importante è coinvolgere tutte le persone. E qui c'è diciamo, sono quelle tecniche di facilitazione, di coaching che possono darci una mano. Ad esempio, se io vedo che in una retrospettiva stanno parlando sempre le stesse persone o c'è qualcuno che è più silenzioso, cercherò di coinvolgere queste persone in modo tale che tutti abbiano la possibilità di parlare. Nella retrospettiva è importante dar voce a tutte le persone per avere una visione sotto tanti punti di vista. Fare quella famosa foto di cui parlavamo prima deve venire da tante voci assieme. Una cosa importante da considerare per chi fa facilitazione di una retrospettiva è che la retrospettiva per funzionare bene deve essere in quel luogo di intersezione fra quella che è la sicurezza psicologica e la creatività. Serve la sicurezza psicologica perché le persone che partecipano alla retrospettiva devono poter parlare liberamente. Io spesso consiglio ai manager di non partecipare alla retrospettiva. Anche se mai hanno buone intenzioni, spesso questo risulta in un'attività di blocco dei team members. Però dicevo, da un lato c'è la sicurezza psicologica, ma dall'altro vogliamo la creatività. E dobbiamo utilizzare attività tecniche, strumenti che ci permettono di stimolare questa creatività. Magari stando attenti a certi bias dell'altro senso. Quindi se da un lato dobbiamo evitare magari il manager che è troppo presente o troppo propositivo che copre le voci dei membri del team, dall'altro dobbiamo stare attenti al fenomeno del groupthink. Magari un team molto coeso la pensa alla stessa maniera ed è difficile uscire con un'azione che sia creativa, che sia innovativa. E in questo caso ad esempio potrei consigliare di dividere il team in piccoli gruppi che lavorano su delle idee in concorrenza fra loro e poi votano la migliore in modo tale da avere comunque delle creatività. Perfetto. Allora fino ad adesso noi abbiamo definito che cos'è retrospettiva. abbiamo grazie a te abbiamo detto che quali sono le fasi per svolgere questo evento. Vorrei chiederti quali sono le caratteristiche di una retrospettiva di successo alla fine. La caratteristica principale è che genera cambiamento, che genera un'azione che porta una nuova maniera di lavorare nel team e porta anche consapevolezza al team stesso. Io posso consigliare a chi prepara, a chi deve facilitare un'introspettiva innanzitutto di prepararla. è importante arrivare lì preparati con dei dati, con il posto della situazione del team, se ad esempio c'è qualche membro del team che magari ha una situazione in cui non è contento, se ci sono dei conflitti, se c'è il team che sta lavorando o sta pensando sempre alla stessa maniera, in maniera poco creativa. Quindi bisogna prepararsi, bisogna arrivare alla retrospettiva come a un meeting importante in cui siamo preparati, in cui abbiamo raccolto dei dati su come sta andando il team. Cambiarla di continuo, il team abbiamo detto che cambia, il contesto cambia, quindi non possiamo pensare di avere un formato di retrospettiva e continuare a proporre questo. Magari anche nello stesso metodo delle 5 fasi noi abbiamo la possibilità di inserire attività differenti, in modo tale che il team in qualche maniera si trovi in un contesto nuovo, che appunto favorisca la creatività. E infine è importante definire quelle che sono le priorità. Sia le priorità nei problemi da risolvere, sia le priorità nelle azioni. Un team che comincia a lavorare sulle priorità è un team che avrà azioni che vengono concluse, avrà un vero miglioramento nella sua maniera di lavorare. E una cosa importante a questo senso è di ricordarsi che il team deve concentrarsi su quello che può fare. Uno dei problemi che abbiamo con la retrospettiva è che magari il team vuole cambiare il mondo, vuole cambiare l'azienda, vuole cambiare il contesto competitivo. Ma è inutile aspettare che il cambiamento venga da fuori. Il cambiamento più forte che possiamo vedere viene proprio dall'interno del team. Ancora, un cambiamento a piccoli passi. Magari non potrà cambiare le politiche dell'azienda su quello che ha il rapporto con i fornitori, ma potrà cambiare la maniera con cui lavora con il suo fornitore o con la persona che è dentro il team. Quindi bisogna veramente concentrarsi su quello che è possibile fare. Deve essere veramente un'azione che generi del cambiamento e del cambiamento positivo. Allora, a questo punto vorrei chiederti quanto è importante il ruolo di facilitatore e quali sono le abilità che un facilitatore di retrospettiva dovrebbe avere? Allora, è molto importante soprattutto all'inizio del percorso agile di un team. Magari i team più maturi possono gestirsi la retrospettiva da soli, anche se comunque io consiglio sempre di avere una persona esterna. Perché comunque è bene avere un occhio esterno, è bene avere uno stimolo esterno. Il consiglio più grande che do a un facilitatore di retrospettiva, ma è uno scrum master, è quello di fidarsi del team. Il facilitatore deve creare il contesto. Poi la riunione, la retrospettiva per sé è la riunione del team. Lui deve creare le condizioni, indirizzare il team su quelle che magari sono le aree che il team stesso non vuole esplorare perché mai ha paura. Ma in realtà i problemi da risolvere, ad esempio, devono emergere dal team. Le azioni di miglioramento che saranno fatte dal team devono essere proposte dal team. Quindi a volte il facilitatore deve fare un passo indietro e molte volte il facilitatore più efficace è quello che è più nascosto, quello che si vede meno. Perché ha portato la retrospettiva, perché ha trovato il contesto giusto, perché il team è un team che contribuisce, che condivide idee e opinioni in maniera molto trasparente e riesce a trovare le azioni giuste. Diciamo che il facilitatore non deve prendere il posto del team e prendere decisioni, deve favorire il processo in modo che il team possa arrivare a una decisione, ambiente e magari quello che serve in modo che in modo molto tranquillo il team possa decidere. Ti vorrei chiedere una cosa. Nel tuo percorso professionale hai avuto mai lavorare con un team che magari aveva qualche membro che non credeva proprio di questo evento, di retrospettiva? In questi casi che magari c'è un buon loco, cosa bisogna fare secondo te? La risposta è sì, ho trovato persone che non volevano fare la retrospettiva e delle persone che non vogliono fare agile. Ma è interessante perché la retrospettiva, come dicevo all'inizio, è in qualche maniera uno specchio nel team di quello che succede a livello prodotto. Però mentre a livello di prodotto noi siamo disposti a fare una riunione per mostrare quanto abbiamo fatto, e anzi di solito troviamo valore in questo, nella retrospettiva questo non succede, lo consideriamo tempo perso. Migliorare la nostra maniera di lavorare non è una priorità del team, anzi il team cerca di evitare spesso. E in questo caso il facilitatore, lo scrum master o il coach agile deve essere molto efficace. deve fare in modo che da quella retrospettiva esca il miglioramento. E ripeto, deve essere un miglioramento che deve venire dal team. Se noi diamo al team la possibilità di cambiare la sua maniera di lavorare e realizziamo questo cambiamento, sicuramente le persone che sono contrarie alla retrospettiva poi ci trovano valore. Il problema della retrospettiva è che spesso è vero che non ha valore, perché magari viene fatta male. È semplicemente una verifica che si conclude lì. E allora posso capire la frustrazione di certe persone che non vogliono fare la retrospettiva, perché dicono semplicemente stiamo esaminando qualcosa che sappiamo e non cambia nulla. Se invece noi cominciamo a far cambiare le cose a partire dalla retrospettiva, questo diventerà uno strumento efficacissimo e per esperienza ho visto che le persone cambiano idea sulla retrospettiva. Perfetto. Purtroppo il tempo a nostra disposizione sta per finire. Comunque nella chiacchierata che abbiamo fatto hai suggerito dei consigli, però vorrei comunque concludere questa puntata con questa domanda. Se puoi suggerire dei consigli per coloro che desiderano migliorare le loro abilità di facilitazione, visto che il facilitatore ha un ruolo molto importante, cosa potresti suggerire? Allora, io personalmente ho trovato molta ispirazione e aiuto nel libro di cui parlavo prima di Diana Larsen e Esther Darby, un libro che si chiama Agile Retrospectives, che parla in dettaglio del metodo delle cinque fasi ed ha tantissimi esempi, casi pratici, su come gestire una retrospettiva. Per cui chi proprio non sa nulla di retrospettiva da questo libro può uscire con un metodo robusto e con una serie di idee che può utilizzare nelle retrospettive. Il secondo consiglio che gli do è di fare pratica. La retrospettiva non può essere un esercizio teorico, ma deve essere vissuta con il team. Quindi è importante fare pratica, fare retrospettiva. Magari fare retrospettiva, soprattutto all'inizio, accompagnato da un coach agile, uno scrum master più esperto, che possa permettere, dare l'esempio, di avere una retrospettiva sulla maniera in cui un coach giovane, uno scrum master giovane sta facendo la retrospettiva. Ecco, la parte secondo me di accompagnamento è molto importante, perché altrimenti si rischia di fare le cose sbagliate o comunque di non essere efficaci e di rallentare il lavoro del team e magari anche perdere la fiducia del team. Quindi io veramente consiglierei soprattutto di appoggiarsi a un coach esperto, a uno scrum master esperto, seguire i suoi consigli e cominciare a far pratica sulla retrospettiva. Ottimo. Ti ringrazio Massimo per la tua partecipazione e il tuo prezioso contributo. Ringrazio i nostri ascoltatori e a risentirci al prossimo episodio. Grazie Uma, grazie a tutti. Grazie mille. Ciao. Ciao. Vi è piaciuta questa puntata? Allora non dimenticate di attivare le notifiche o di seguirci per non perdere le prossime. Inoltre, l'ascolto del podcast del PMI NIC dà diritto a 0,5 PDU nella sezione Online or Digital Media del CCRS. Noi vi aspettiamo al prossimo episodio di Project Management on the go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.